Sole, relax e comodità Ecco quello che potrai goderti nel giardino di questo appartamento che adesso andremo a scoprire insieme Siamo in una zona esclusiva di Perignano, in provincia di Pisa e lo spazio esterno è solo uno dei tanti pregi che possiede questa abitazione Grazie a tutti Un trilocale con ingresso indipendente, la comodità del garage e del giardino esclusivo da non sottovalutare l'esposizione, le stanze si accendono